Il ripetitore di stato wireless permette di visualizzare in Wi-Fi lo stato della centralina, cioè se armata o disarmata, tramite l'accensione di un LED e un cicalino che è disattivabile. La centralina deve disporre di un'uscita che va da 12V quando è armata. Il ripetitore è composto da un trasmettitore che va collegato alla centralina e da uno o più ricevitori che possono essere posizionati all'ingresso dell'abitazione, all'interno delle sirene, nella camera da letto, in sala 8, eccetera, cioè in tutti i punti dove vogliamo controllare che l'impianto sia inserito o disinserito.